Noi lo facciamo come napoletani principalmente ormai da dieci anni. L'organizzazione generale è molto più antica perché la Repubblica Sarawi manda i suoi bambini in Europa e quindi anche in Italia da più anni. Dal 2005 l'associazione Bambini Senza Confini opera al fianco delle popolazioni che non godono dei diritti sanciti dalla Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo. In particolare a Napoli la ONLUS porta avanti un progetto di accoglienza rivolto ai bambini del Sarawi provenienti dai campi profughi dell'Algeria. Quest'anno sono in 17 ad essere ospitati fino alla fine di luglio presso la scuola Cimarosa in via Posillipo, prima di trasferirsi a Bacoli dove potranno andare al mare. Alcuni di loro ci sono già stati anche l'estate scorsa ed oltre ad alloggiare presso la struttura partecipano con i bambini napoletani al programma di attività ludico-ricreative. Questa è una collaborazione tra associazioni, scuola, genitori, comune di Napoli, Napoli città dell'accoglienza, con i bambini che con la loro gioia, la loro felicità, con la loro semplicità si incontrano e contribuiscono ad abbattere le mura del pregiudizio e della paura. Il programma di accoglienza, che non a caso si chiama Bambini Saharawi, Piccoli Ambasciatori di Pace, nasce per testimoniare la storia di questo popolo ancora oggi poco conosciuta. Il Sahara occidentale sta di fronte alle Baleari, un posto magnifico dal punto di vista della geografia, purtroppo triste, perché loro hanno subito l'invasione del Marocco dopo la decolonizzazione della Spagna e sono dovuti scappare dai loro territori. Si sono rifugiati in Algeria, in un piccolo triangolo, che è il deserto dell'Ammada, che è la parte meridionale occidentale dell'Algeria, hanno piantato lì le loro tende perché era una popolazione nomade, in gran parte, e stanno così da 37 anni. Questa mattina i piccoli del Saharawi hanno ricevuto la visita dell'assessore al welfare Roberta Gaeta e del sindaco Luigi De Magistris, che gli ha consegnato una medaglia ricordo della città.